regionali hanno concluso le procedure per l'assegnazione del voucher scuola 2024-2025, il contributo alle famiglie degli studenti per sostenere le spese dell'istruzione scolastica dell'obbligo. In aumento rispetto agli scorsi anni il numero delle famiglie che riceveranno il sostegno regionale. Le domande pervenute agli uffici regionali, valide per la formazione delle graduatorie, sono state 112.174. Di queste 4.950 sono riferite al voucher che coprono le spese di iscrizione di frequenza alle scuole paritarie, mentre le rimanenti 107.224 sono riferite al contributo per le spese relative a libri di testo, materiali per lo studio, attività didattiche del piano formativo e trasporti. E grazie all'integrazione tra risorse regionali e contributo statale, per i libri di testo, il voucher scuola conta su una dotazione finanziaria di 19 milioni di euro. I contributi sono erogati in ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse. L'importo sarà reso disponibile sulla tessera sanitaria in tempo utile per gli acquisti dei beni o dei servizi. Entro il 31 agosto i beneficiari riceveranno una mail con il PIN e tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare il voucher.